E' bufera politica sulle dichiarazioni dell'ex presidente della provincia e sindaco de Montevarchi Silvia Chiassai che ultimamente se l'è presa un po' con tutti. Un affondo pesante è arrivato nei confronti delle liste civiche di San Giovanni Valdarno. State all'opposizione del Partito Democratico in Consiglio Comunale e ci è andato invece a braccetto nei palazzi della provincia, ha detto Chiassai, invitando i civici a pensare invece alla nuova palestra che sarebbe dovuta sorgere a San Giovanni. A stretto giro di posta è arrivata la risposta delle liste. Se, come lei stessa ha dichiarato, rivolgendosi a Chiassai, è necessario operare nell'interesse dei cittadini, è sicura di avere fatto tutto ciò che era necessario affinché la città di San Giovanni avesse una palestra che attende da anni? Meno slogan, meno anatemi, più serietà, più approfondimento e studio degli atti. Questo significa governare. Stia comunque tranquilla, sindaco Chiassai, ha concluso il gruppo di opposizione. Noi restiamo alternativi al sistema di potere del PD. Da oggi abbiamo semplicemente la riprova che taluni esponenti del centrodestra o finti civici che dir si voglia, come lei del resto, sono i migliori alleati per perpetuare l'immobilismo targato Partito Democratico. Piano appoggio a Chiassai è arrivato invece dal movimento di maggioranza Prima Montevarchi. Polcri deve dimettersi subito o vada a governare con la sinistra, che ha sostenuto questo caos solo per far fuori Silvia Chiassai, senza preoccuparsi del dopo, hanno detto dapprima Montevarchi. Gli altri partiti del centrodestra riflettano perché hanno preso una strada sbagliata e se si smarriscono nessuno andrà a ricercarli né si ricorderà di loro in futuro. E poi si ricordino, la storia insegna che chi ha già tradito tradirà ancora.